Volevo ringraziare l'assessore e gli uffici per tutto il lavoro svolto per queste delibere. Dopodiché rassegno il voto favorevole del Movimento 5 Stelle nei confronti di queste delibere per tutte e tre e volevo rassicurare i colleghi che tutte poi le successive assegnazioni agli aventi diritto saranno fatte dal Comune, come già stabilito e già detto più volte in Commissione, quindi non ci saranno problemi rispetto a questo e quindi il voto del Movimento 5 Stelle è assolutamente favorevole a tutte le delibere. Grazie.